Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, Pietro prese la parola e disse Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dei morti e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostoli ai Colossesi Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Dal Vangelo secondo Giovanni Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora, e andò da Simon Pietro, e dall'altro dicepolo, quello che Gesù amava, e disse loro Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro dicepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro dicepolo, corse più veloce di Pietro, e giunse per primo al sepolcro. Sichinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e osservò i teli posati là, e il sudario. Che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide, e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Grazie. Grazie.